I Mongoli stanno invadendo il nostro paese. Sono brutali. Implacabili. Inarrestabili. Noi siamo 80 samurai contro un esercito. Combattiamo per fermare l'invasione. Oggi muoio per la mia gente. Stanno arrivando a migliaia. Affronteremo la morte e difenderemo il paese. Tradizione. Coraggio. Onore. Ci rendono ciò che siamo. Noi siamo i guerrieri di Tsushima. Noi siamo samurai. Guarda Dachi. Adesso mettili in ginocchio. Grazie. È. Grazie a tutti. Invasori, mandate il vostro guerriero più abile. Noda, ci dirò. Io sono Arunobu Adachi, discendente del leggendario Yoshinobu Adachi. Samurai! Ora, vi arrendete? Chi è privo di onore non merita pietà. Senza nessuna pietà! Spoccate! Rattuscivo! 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 Il cappa è ritirata! Stamatelo! Devi venire con me. Una carneficina. Dobbiamo resistere, Lord Sakai, a costa della nostra vita. Agli ordini, Lord Shimura. Uomini, staniamo il capo dei Mongoli. Tutti voi, seguitemi! Altri cani bastardi, distruggiamoli! Oh, 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 oh! Ci! Siamo rimasti soli. L'unica cosa da fare è trovare il capo dei Mongoli ed eliminarlo. Sarò al tuo fianco fino alla fine. Lo so. Lì, è il capo dei bamboni. Sono pronto insieme. Ce la faremo insieme. Sì, è il capo dei bambini. Ciò. Sì. Io sono Kothun, cugino di Kublai, nipote di Gengis. Fratello, tu sei un guerriero, è evidente. Ti sei preparato per tutta la vita e hai vinto battaglie che uomini mediocri definiscono invincibili. Ma mentre tu affilavi la spada, sai come mi preparavo io? Studiando, conosco la tua lingua, le tue tradizioni, il tuo credo. So quali villaggi piegare e quali bruciare. Perciò te lo chiedo di nuovo, samurai. Ti arrendi? Perciò te lo chiedo di nuovo. E questo è il momento molto più utile. Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti.